Io l'ho detto, sono disponibile a mettere in piedi un governo, i governi di tutti per fare poco e niente non mi piacciono, anche perché se entrano tutti al governo con i grandi propositi di cambiare l'universo mondo, la Costituzione e la legge elettorale da capo, vuol dire che fra due anni siamo ancora qua a parlarne. O c'è un impegno di tutti a partire da questa legge elettorale aggiungendo una riga che dà alla lista o alla coalizione, per me non fa differenza, il premio per governare a chi prende un voto in più io sono a disposizione, altrimenti i governi tutti insieme per tirare a campare non mi piacciono. O c'è un governo che fa politica per cinque anni o c'è un governo che dura poco per andare alle elezioni, le vie di mezzo non sono fatte per le vie di mezzo.